Bisogna realizzare la testa, non demordere perché è importante in questo momento tirare fuori qualcosa in più da ognuno di noi. Credo che lo sia stato anche con la Sampo, poi la squadra si è allenata bene stasettimana, stasera la prestazione c'è stata. Secondo me la Lazio va via da qua con qualche rammarico di poter portare via qualcosa di più. Come ho detto prima è un momento così, si vede che quello che stiamo facendo non basta e bisogna fare di più. Diciamo che non ci ha aiutato questa situazione perché comunque il periodo c'era un po' così, subire gol e giocare tutta la partita con il risultato a sfavore è stata dura.